Scintille dal vuoto di Isabella di Soragna Traduzioni tratte da l'insegnamento della non-esistenza del mondo, note di un senza nome. Mayavada Sutra Colui che è lo spettatore della manifestazione non è approdato alla saggezza. Saggio è colui che non solo ha riconosciuto, ma ha integrato nel suo pensiero che non esiste una manifestazione. Il saggio, poi, è anch'esso un'illusione, ma la sua saggezza proviene dalla realtà e svela la realtà. La realtà assoluta è indescrivibile. La si può solo indicare vivendola, incarnandola. Ciò che esiste è consapevolezza pura. Ciò che è visibile è solo apparenza. Che esista un mondo è un'invenzione. Che non esista un mondo è conoscenza diretta. Non esiste lo spazio, ma l'apparenza di spazio. Non esiste tempo, ma l'apparenza di tempo. Non esiste causalità, ma solo l'apparenza della causalità. Il cambiamento ed il tempo sono le due facce di una medaglia apparente. Non esiste cambiamento né tempo. Non esistendo il tempo, non esiste nemmeno l'eternità, ma solo il senza tempo o attemporalità. L'attemporalità significa che ciò che sembra passato è ancora presente e ciò che pare futuro è già presente. Se dici che l'intelletto produce l'illusione del mondo, si può controbattere che l'intelletto fa parte dell'illusorio individuo, quindi è inesistente. Ciò che non esiste non può produrre nemmeno un'illusione. Poiché all'inizio non esisteva un mondo, non ve ne sarà uno alla fine. Quindi non può esserci un mondo nemmeno nel presente. Quando si chiede a un fisico atomico di cosa è fatta la Terra, ti direbbe praticamente di nulla, poiché se si comprimessero le particelle subatomiche di cui la Terra appare fatta, non rimarrebbe praticamente nulla. Un giorno anche quelle particelle si volatizzeranno, ma i fisici lo devono ancora imparare. E un giorno essi scopriranno ciò che i mistici hanno capito da sempre. Se è compresa l'irrealtà del mondo, tutte le scienze si rivelano solo occupazioni di un'illusione. Esiste un'apparizione del mondo, ma il mondo non esiste realmente. Finché si vede qualcosa, si è ancora ciechi. Si vede solo quando non si vede più nulla. La realtà è al di là degli opposti, mentre l'illusione del mondo è soggetto alla polarità. Un polo implica un altro polo. Chi combatte il male diminuisce in tal modo il bene e chi aumenta il bene rinforza in tal modo il male. Non si può migliorare un'illusione del mondo. Si aiuta il mondo realizzando che non esiste. Chi vuol migliorare l'esterno ha in realtà bisogno di migliorare il proprio interno. Non si può migliorare la realtà che è perfetta e il mondo non è migliorabile perché non esiste. Ciò che rimane quando il miraggio scompare è la perfezione. Noi non siamo gli agenti di un'azione. Siamo solo gli spettatori della persona con la quale ci identifichiamo. Che bisogno c'è di un libero arbitrio? Il libero arbitrio è un'illusione e la volontà vincolata è altrettanto illusoria. In realtà non abbiamo nessuna volontà. Sullo schermo appaiono i pensieri che crediamo nostri, i sentimenti e gli impulsi che consideriamo nostri, come le nuvole sul cielo immobile. il karma è solo una catena di quadri illusori, quindi nulla. Una legge apparente per apparenti persone in un mondo apparente, quindi in realtà. Non appena si riconosce il mondo come irreale, anche il karma lo diventa. Chi riconosce che non vi è un agente si libera da ogni karma. Ciò che ci appare come disgrazia lo è dal punto di vista umano, dal punto di vista dell'assoluto, è solo immaginario. La morte. Torniamo al punto da cui non siamo mai partiti. Parte solo l'immaginazione di un corpo materiale. Alla morte del corpo svanisce l'illusione di questo corpo, ma rimangono le illusioni del corpo astrale e causale. Finché questa fede rimane, siamo soggetti all'inganno della reincarnazione. L'attaccamento alle cose materiali è il seme che ci fa prendere forma sul piano terreno. La fine della ricerca. Colui che cerca non esiste e quello che esiste veramente non cerca. la realtà è immutabile. Qualunque cosa uno cerchi di raggiungere, fosse anche l'illuminazione, è un miraggio. Tutte le immagini fallaci dei guru sono solo strumenti con cui l'assoluto si serve per insegnare alle falsi immagini dei discepoli oppure per prenderli per il naso. Tutto ciò che un guru può fare è di insegnare al discepolo che né lui il guru né lui il discepolo esistono. Se fa questo è utile. Se non lo fa è un ciarlatano. Il Sadguru vero guru è l'assoluto. Quando l'immagine illusoria del vero guru parla è l'assoluto che lo fa attraverso i pensieri manifestati dalla bocca del vero guru. Non è il proferire di qualche mantra ma il tacere il mezzo per vivere la realtà. In verità si tratta di dissolvere il meditante. L'asservimento è ignoranza e l'illuminazione è anch'essa illusione. Non vi sono illuminati né non illuminati. L'individuo non può né diventare né essere illuminato perché non esiste. La legge della realizzazione del sé dice che chiunque rinunci a tutto guadagna tutto. La rinuncia non è fisica non significa buttar via le cose materiali ma accettare con mente serena se spariscono. realizzarsi è semplice significa annullare l'io. Non appena l'io è totalmente scomparso l'assoluto riempie subito la vacuità che si è creata. siamo solo spettatori e non attori dei cambiamenti del mondo. Non serve agitarsi per delle immagini. Si rimane ad assistere alla vita come ad un film. Non siamo nemmeno gli abitanti del nostro corpo. Siamo l'osservatore unico di corpi. L'ascesi significa ritirarsi dal potere immaginario della coscienza. Chi ha riconosciuto il sé non è giunto per così dire al traguardo ma solo se lo vive costantemente. Si può solo essere liberi dall'errore di essere un corpo che vive in un mondo materiale. Il corpo non sarà esente da mali e limitazioni ma realizzeremo che non abbiamo nulla a che fare con essi. Chi vede in un angolo della stanza una sedia e nell'altro angolo uno spazio vuoto realizzando che sono la stessa cosa allora vive il sé. Ecco Mayavada è l'insegnamento di Maya è il tentativo di descrivere qualcosa di indescrivibile e di spiegare qualcosa di inspiegabile. Nell'assoluto immutabile eterno emergono quadri che cambiano e poi spariscono. La fine di questo insegnamento la comprensione di ciò che è quando non c'è nulla. l'insegnamento di Maya è la sola visione del mondo che rende sopportabili i terrori del mondo e le tragedie della vita. La verità è cercata dagli scienziati della natura è affermata dai filosofi e trovata dalla Maya. L'intera dismisura per quanto concerne il sapere umano è falsa. Più si sa più si è poco intelligenti. I nostri sensi sono i più grandi impostori. Non possiamo vedere il mondo. Vediamo in fondo un quadro del mondo che la nostra coscienza ci consegna esclusivamente. Tutto quello che le scienze naturali hanno scoperto finora sono solo quadri che coprono la realtà ma non sono la realtà. Gli uomini giudicano dalle apparenze mai dall'essenza. Ecco perché ogni giudizio è falso. Ciò che esiste non è descrivibile. Quello che si può descrivere non esiste. Sulla realtà si può solo mentire o tacere. Tutto ciò che cambia è pura apparenza. La realtà è immutabile, completa, perfetta. Ciò che esiste non scompare. Ciò che scompare non esiste. se si designa l'assoluto come qualcosa è sbagliato. Se lo si designa come nulla è ancora falso. Meglio dire un nulla che è ancora nulla, non nulla. L'assoluto non ha nulla a che fare con ciò che designiamo come coscienza. esso non dipende da nulla e non si basa su nulla. Tutti gli opposti sono illusioni. L'assoluta consapevolezza la sola esistente è al di là di ogni contraddizione. Ecco perché ogni logica si annienta e vige solo il paradosso. Il conoscitore il conosciuto e la conoscenza sono la stessa cosa nell'assoluto. Esso è anche al di là dello spazio e del senza spazio. Dove c'è cambiamento vi è anche tempo. Dove non c'è cambiamento non c'è tempo. Tempo e cambiamento sono le due facce di una stessa medaglia. nell'assoluta consapevolezza non c'è tempo quindi il cambiamento è impossibile. Non esiste nulla di quello che conosciamo esiste solo quello che non conosciamo. L'assoluto è inconoscibile ma lo si vive nel momento in cui l'illusione del mondo sparisce. Ciò che esiste è solo pura consapevolezza. Tutto ciò che è visibile è in verità solo un simulacro. Cos'è irreale? Tutto tranne la pura consapevolezza che è il vero substrato invisibile del mondo irreale. Il mondo non è una rappresentazione dell'individuo poiché l'individuo stesso è una rappresentazione ed è finora inaudito che una rappresentazione possa produrre una rappresentazione. Perché l'assoluto ha manifestato l'illusione del mondo? Come la natura del corpo umano è di respirare distruggere vecchie cellule ricrearne di nuove fino alla fine così quella dell'assoluto è di creare scene di universi uomini e cose per dissolverle in seguito. La sua attività è di pensare e rappresentare ma ciò non cambia nulla sembra soltanto che lo faccia. Si può solo trascendere il mondo riconoscendone l'irrealtà. Non può esserci un mondo poiché manca la sua origine. Un accadimento causale si rompe se manca un membro, il primo, quello di mezzo o l'ultimo. Nell'ordine causale del mondo manca il primo membro, anche se si parla di Big Bang prima esplosione questo non lo spiega veramente poiché ci doveva essere qualcosa prima che potesse crearsi questa esplosione. Da dove proveniva il materiale che poi è esploso? Manca quindi l'origine, il primo membro dell'esistenza del mondo. Questo fa concludere che il mondo visibile è solo un quadro fittizio. Nulla è mai successo e non esiste una storia del mondo. Non c'è speranza nel mondo ma non c'è da temere. È solo fatto di quadri fittizi. L'insegnamento di Maya è una consolazione poiché dimostra che tutto è irreale. La fine del mondo non c'è da agitarsi se ne va solo uno spettacolo illusorio. Il mondo si sta inabissando piagnucolate non è mai esistito rispondo. La realtà è al di là degli opposti mentre l'illusione del mondo è sottoposta alla legge di polarità un polo necessita l'altro. Chi combatte il male diminuisce anche il bene e chi aumenta il bene aumenta di conseguenza il male. Gli opposti apparenti del mondo illusorio non hanno bisogno di equilibrarsi ma di essere trascesi. Il malessere del mondo giace nel fatto che gli uomini combattono il male. Se lo accettassero nel mondo regnerebbe solo la pace. Se ognuno si occupasse dei propri problemi con lo stesso zelo con cui si occupa di quello degli altri il mondo sarebbe più in equilibrio. In realtà chi vuole salvare o migliorare gli altri ha bisogno di farlo in se stesso. La realtà non necessita miglioramenti. poiché è perfetta. Il mondo non ne ha bisogno perché non esiste e va trasceso. Maya significa non solo che il mondo è un'apparizione illusoria ma anche che non ha nessun significato. Chi vede il male è prigioniero di un'allucinazione. I mali del mondo sono reali come quelli visti sulla scena di un teatro. il mondo deve essere imperfetto per poter adempiere al suo compito di trascenderlo. Il sé che siamo non è mai nato ed è immortale. I corpi con cui ci identifichiamo sono invece come le ombre proiettate dai nostri corpi alla luce del sole. Anche i corpi sottili astrali e causali sono solo proiezioni del potere di immaginazione della pura consapevolezza. Quindi sono irreali. Solo il sé il substrato è reale. Il mistero nascosto nel profondo del mondo e dell'individuo se lo proiettiamo o oggettiviamo lo nominiamo assoluta consapevolezza ma se lo riconosciamo nel profondo di noi stessi è il sé o Atman. Siamo sempre oltre l'essere e il non essere ed è indescrivibile col linguaggio umano. Siamo quello che veglia quando il corpo dorme e chi vive quando il corpo muore. Il sé è oltre lo spazio tempo e causalità oltre lo spazio significa che non ha né forma né frontiere al di qua del tempo significa immutabile al di qua della causalità significa che non ha origine ed è imperituro. Poiché nulla esiste tranne l'assoluta consapevolezza ne consegue che siamo quella consapevolezza. senza frontiere puri immutabili e immortali ecco quello che siamo realmente non siamo nel mondo ma il mondo è dentro di noi è un quadro fittizio nella coscienza che siamo e in cui appaiono persone immaginarie con cui ci identifichiamo falsamente tutto succede nell'illimitata presenza che siamo libertà senza frontiere pace e gioia si tratta però di distinguere tra coscienza limitata e falsa che appartiene ancora alla persona illusoria individuale e quella assoluta senza traccia di personalità ego indescrivibile e inimmaginabile assoluto e il nostro se sembrano due in apparenza ma sono un'unica realtà nell'assoluto tutti i contrari sono risolti non c'è né parte né che l'assoluto sia intero altrimenti potremo credere di poter cambiare il movimento del mondo cosa impossibile alla domanda del nostro rapporto con l'assoluta consapevolezza il Buddha ha dato la sola risposta valida è rimasto in silenzio non ci sono relazioni una relazione implica dualità quando in realtà c'è solo identità e nessun altro guarda dietro una pietra e vedi te guarda dietro una pianta e vedi te guarda dietro un animale e vedi te guarda dietro una persona e vedi te guarda dietro di te e vedi te che i nostri corpi si manifestino come realizzati o non realizzati siamo sempre lo stesso i nostri corpi sono come nuvole passeggere nel cielo sempre azzurro sul piano del mondo apparente non sembriamo liberi in quello assoluto siamo oltre gli opposti di libertà e di prigionia la prigionia è illusoria possiamo liberarci solo dalla falsa credenza di essere imprigionati non lo siamo mai stati non possiamo essere liberati come dicono gli ignoranti ma ognuno è già libero la libertà è il nostro essere vero e non può esserci né data né tolta lo yoga non può portarci in generale anche dopo anni e anni di sforzi fino alla morte alla liberazione ma Yavada è la via di chi la segue per poter constatare la propria libertà da un momento all'altro il sé che siamo è il testimone o osservatore sia della veglia nella persona apparente sia del sogno sia del sonno profondo il cosiddetto quarto stato Turia e quello che è indescrivibile Turiatita che assiste a questi stati è il solo stato del sé in cui siamo sempre veramente immersi cos'è l'uomo un fantasma nient'altro e così i suoi dolori e le sue gioie tutti i problemi sono illusioni se non ci sono illusioni non ci sono problemi i suoi tre corpi sottile astrale causale sono solo immagini fittizie nella pura coscienza che è crediamo che essa sia legata ai corpi mentre sembra soltanto esserlo il termine avidia è la falsa credenza che esista un mondo con dei corpi in esso nessuno è sprofondato in avidia è solo immaginazione apparenza i mali del mondo non sono l'ignoranza ma di credere nella realtà del falso si tratta di abbandonare le conoscenze basate sul falso quindi non si tratta di imparare ma di disimparare più si sa e si conosce più ci allontaniamo dal reale il nostro unico compito è di verificare che siamo solo marionette manovrate dall'ignoto che siamo se non esistono individui che libero o non libero arbitrio potrebbero avere crediamo di agire invece assistiamo solo alle azioni della persona illusoria a cui ci identifichiamo a che serve quindi un libero arbitrio è basso esoterismo anche credere di non poter agire secondo volontà mentre in realtà non vi è mai stata una volontà chi accoglie l'insegnamento di Maya viaggia nella vita senza bagagli o sensi di colpa la nascita significa che è apparsa un'illusione e la morte che un'illusione sparisce quello che sta in mezzo ad esse è altrettanto immaginario non siamo mai nati e quindi immortali siamo nati in un corpo apparente e in un mondo apparente nulla è mai successo non ci sono ignoranti né saggi né criminali né santi sono solo immagini fittizie come la gioia e il dolore e noi siamo al di qua di esse facciamo solo quello che è nel programma sul palcoscenico lo sfondo che accoglie la persona appaiono pensieri sentimenti reazioni che crediamo nostri come nuvole nel cielo puro la più grande saggezza è quindi lasciare accadere la vita il karma è una catena di quadri falsi le cosiddette colpe karmiche si appoggiano sui corpi sottili ma il nostro vero sé non è minimamente toccato finché lo crediamo ne siamo coinvolti al momento della morte sembra che accada qualcosa in realtà nulla siamo siamo ora come quando non eravamo ancora nati e così lo saremo dopo la morte non vi è in realtà nessun mutamento alla morte sparisce l'illusione di un corpo fisico ma rimane quello degli altri corpi sottili è un'immaginazione falsa che l'anima lascia il corpo alla morte il corpo è nel sé e alla morte il sé spinge via un corpo apparente in realtà torniamo da dove non siamo mai partiti la morte è una benedizione perché se ne va l'imbroglio del mondo fisico è la nascita e la prigionia in un corpo fisico che è da temere la morte dovrebbe generare gioia solo l'ignorante teme la morte l'intelligente desidera la morte ma al saggio non fa differenza che abbia un corpo o che non ne abbia chi non ha più desideri non è più sottoposto al desiderio di reincarnarsi il senso della vita ciò che non esiste non può avere un senso possiamo definirlo il senso di un gioco un passatempo ma un gioco che ci può risvegliare da un sogno che senso ha dunque quello di migliorare di perfezionare ciò che non è mai esistito gli stati di samadhi sono altrettante illusioni che non peggiorano né migliorano ma non portano alla realtà se ci sono ancora desideri intensi qualunque siano allontanano dalla realtà sempre presente la fine della ricerca colui che cerca non esiste e colui che esiste non cerca e il desiderio di illuminazione impedisce il riconoscimento che siamo siamo stati e saremo sempre al di qua o oltre degli opposti di illuminazione e ignoranza nessuna azione o pratica spirituale potrà liberarci dalla falsa credenza che ci sia un mondo materiale e che il praticante sia un individuo che possa subire un cambiamento mentre invece queste rafforzano l'errore e ne impediscono la liberazione la pratica di rituali e cerimonie per raggiungere il traguardo della vita non solo è inutile ma è anche dannoso tutti gli ashram sono monumenti dell'illusione mentre la realizzazione del sé è invece la liberazione da tutte le illusioni più ci si sente bene in un ashram e più questo è un ostacolo più ce ne si allontana e più ci si avvicina alla realizzazione non si ottiene la liberazione attraverso le pratiche ma malgrado questi esercizi spirituali siamo al mondo per imparare ma l'ultima lezione è quella che tutto è stato un teatro che nulla è migliorato e che tutto quanto è stato imparato era inutile l'unica cosa che può fare un guru è di comunicare al discepolo che né lui il guru né il discepolo esistono se lo fa è utile se non lo fa è un ciarlattano non ci sono mai stati filosofi maestri o illuminati né Shankara né Buddha ma solo immagini fittizie di quelli solo l'assoluto ha parlato attraverso di essi non solo gli insegnamenti ma anche i falsi insegnamenti derivano dalla consapevolezza assoluta tutti i maestri esterni sono solo cartelli indicatori del vero maestro in ognuno di noi nessuno ha un guru ognuno è il guru della persona che uno non è non c'è differenza tra un vero maestro e un vero discepolo solo identità la meditazione è senza senso perché chi medita non esiste ed è inutile perché quello che esiste veramente è immutabile e quindi non ha bisogno di meditazione non è il pronunciare dei mantra ma è il silenzio il modo di riconoscere la realtà il meditante deve sparire finché si crede di meditare si è impantanati nel fango dell'illusione se ci si accorge che è solo la persona illusoria che medita e che assistiamo alla meditazione della persona siamo nella luce della consapevolezza assoluta chi siamo realmente non fa esperienze la realizzazione del sé non è un'esperienza finché c'è ancora qualcuno che fa esperienze è ancora lontano dalla realizzazione tutti gli stati di samadhi anche il più alto sono stati illusori e passeggeri è lo stesso fenomeno di chi assiste alla manifestazione del mondo e dei suoi oggetti finché si vede ancora qualcosa non si realizza la verità chi la realizza non vede più nulla essere prigionieri dell'ignoranza è un'illusione e così l'illuminazione l'illuminazione avviene all'interno dell'universo illusorio ed è quindi anch'essa un'illusione l'immagine fittizia di un buon guru porta alla comprensione che siamo sempre stati e saremo nel senza tempo al di qua di illuminazione e non illuminazione gli individui non potranno mai essere illuminati perché non esistono quando avremo compreso che siamo già immutabile consapevolezza non potremo più preoccuparci se le persone che appaiono nel mondo si manifestino come saggi o come ignoranti il sé che siamo si trova su un piano di non dualità oltre ogni opposto l'illuminazione contrapposta all'ignoranza è quindi ancora nella dualità chissà quello che è veramente non è né illuminato né cerca l'illuminazione ci sono molti illuminati ma pochi realizzati moksha significa al di qua dell'illuminazione e dell'ignoranza la ricerca del sé è la via al patibolo la realizzazione costa la propria testa non ci sono sacrifici da fare tranne quello del proprio io più si cerca all'esterno e più si è ipnotizzati da materia mondo e individui l'infinito in noi ha la nostalgia dell'infinito le depressioni sono la nostalgia della nostra vera patria vita e dolore sono sinonimi essere felici in questo mondo di ipnosi è la più grande disgrazia ma in essa lavora già l'assoluta consapevolezza chi ha intrapreso il cammino spirituale ha come medicina i dispiaceri che non sono mancanze ma gradini verso il sé essi guariscono perché distruggono la persona illusoria anche le medicine buone hanno spesso un sapore amaro il sé che siamo non è mai toccato né da mancanze né da dolori né da angosce chi se ne duole non è ancora toccato dalla propria vera natura il saggio non ha pietà ma solo compassione la legge della vera saggezza dice che chi rinuncia a tutto guadagna tutto significa essere già morto prima di morire rinunciare a tutto non si tratta di gettar via i propri beni ma di accettare di buon grado se spariscono non appena l'io sparisce l'assoluto ne prende subito il posto vacante se in ogni occasione della vita si comprende che l'io a cui si era identificati non esiste e che il sé che siamo non è mai commosso da nessun avvenimento abbiamo raggiunto l'apparente traguardo della vita nessuna richiesta nessun desiderio né di beni materiali né di assenza di malanni il senso di pace dell'assenza di desideri ne è la prova cerca la presenza di saggi realizzati se puoi ma chi è solo ha tutto il mondo per sé l'animale nell'uomo cerca il branco il divino cerca la solitudine per guadagnare il cielo si deve abbandonare il mondo vivere come se non si vivesse tutto tutto quello che si costruisce o nasce nel mondo è destinato a sparire se riconosciamo il sé non abbiamo più bisogno del mondo non siamo il corpo siamo l'osservatore del corpo e delle sue azioni come un film che passa l'ascesi significa ritirarsi dalle false immaginazioni il più grande ostacolo alla realizzazione è l'intelletto tutto deve essere liquidato non dobbiamo accettare la verità da qualcun altro ma trovarla in noi stessi e abbandonarsi alla grazia morire prima di morire significa riconoscere profondamente che la persona individuale non esiste chi ha riconosciuto il sé non è ancora arrivato al traguardo lo è in apparenza se lo vive totalmente in ogni occasione essere liberi non significa essere esenti da limitazioni malanni e disgrazie ma considerarli come fatti con cui non abbiamo nulla a che fare la vera felicità non la si troverà mai nel mondo se uno è felice senza ragione è sulla buona via non dobbiamo raggiungere l'assoluto lo siamo sempre anche oltre l'eternità l'ignorante vive nel passato o nel futuro l'intelligente vive nel presente il saggio nell'assenza di tempo in esso nulla cambia e nulla avviene è vivo chi non ha ancora realizzato la propria vera natura il realizzato è già morto il suo unico compito che rimane è quello di lasciare cadere il suo corpo dove l'uomo comune vede una persona il saggio vede solo un'ombra attraverso la quale vede e che cosa se stesso né niente né non niente né essere né non essere ossia è indescrivibile il saggio vede la propria vita e la manifestazione come se assistesse a un film cui non reagisce più egli non ha più bisogno né di guarire o migliorare perché ha riconosciuto che tutto va bene così com'è non ha bisogno di aiutare il mondo perché per lui il mondo non esiste più non desidera né chiede più nulla non si rallegra né si dispiace per qualcosa non ha tentazioni ma assiste soltanto alla manifestazione illusoria il saggio e il suo corpo sono come una coppia che vive insieme ma non ha più nulla da dirsi amore è un bisogno di soddisfazione sentimentale o sensuale è l'opposto di odio chi potrebbe amare colui che non ha più oggetti da amare e odiare ci dovrebbe essere uno che ama e un altro che è amato ossia una dualità egli esiste solo come un fantasma o ologramma senza traguardi poiché non ha mai lasciato la meta egli è un quadro immaginario ma comunica la realtà ultima l'ultimo insegnamento del saggio il silenzio l'ultimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.